La notizia di un attacco hacker tra le prime pagine della cronaca nazionale e internazionale. Difficile fare una prima stima dei danni. È stato convocato un tavolo a Palazzuchigi per mettere in campo anche adeguate contromisure. Si tratta di un attacco di tipo ransomware, cioè consiste in un attacco cibernetico che prevede la sfiltrazione dei dati da server gestiti da pubbliche amministrazioni, aziende private, istituzioni. Questi dati vengono poi cifrati e per decifrarli, quindi per riconsegnarli al legittimo possessore, viene chiesto un riscatto. In questo caso si tratta però di un attacco legato ad una vulnerabilità, cioè a un cosiddetto bug del sistema, in questo caso parliamo dei sistemi VMware, di un'azienda statunitense, che avevano un buco, cioè una possibilità di entrare all'interno che poteva consentire di sfiltrare questi dati. Curioso guardare nella schermata cosa accade in tempo reale in tutto il mondo in fatto di cyberattacchi. Il consiglio è sempre quello di aggiornare i sistemi in modo da schermarli e la regola vale sia per le grandi organizzazioni che gestiscono piattaforme, milioni di utenti, ma anche per chi semplicemente utilizza un PC per lavoro o per uso domestico. L'azienda aveva rilasciato una patch, in gergo viene definita così, per sanare questa vulnerabilità. Una patch rilasciata a febbraio del 2021. Esiste un'autorità centrale che monitora la situazione di cyberattacchi? Sì, esiste la ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che è deputata al controllo, al monitoraggio del numero degli attacchi che si verificano a livello nazionale e che dovrebbe provvedere anche a una sorta di anticipazione di quelle che sono le contromisure da adottare per prevenire o quantomeno ridurre il pericolo di questi attacchi. Aggiornare è meglio che curare, potremmo dire, usando un terminologia più leggera, meno tecnologica. Aggiornare i sistemi sia da un punto di vista software che hardware è assolutamente indispensabile. Se non si effettuano gli aggiornamenti, anche solo se vogliamo definirli quelli sul singolo personal computer, i rischi di essere attaccati, oggetto quindi di attacco o comunque di vedere in situazioni pericolose la stabilità della propria workstation è elevatissima.